Giucci non vuole nessun altro, perditi. È stato un piacere sentire la veronessa di nuovo. Diciamo del colore, vero? Appunto, questo non va. Ecco, io vorrei un colore bluetto, ma non il solito. Guardi, un bluetto è così. Un bluetto è così? Sì. Un colore bluetto. Ma sarà. Non sarebbe meglio vederlo fuori, alla luce nappure? Io penso che fuori si fermerebbe il traffico. Galante. Già dimenticavo, buoni italiani. Va bene, prendo questo. C'è nessuno? L'avevo detto io, non è a questo colore. Grazie. Grazie.